vai eccola uno ok 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 ciao a tutti oggi siamo in compagnia di Alice e faremo un bel trattamento osteopatico Alice girati verso la finestra dimmi un pochettino come stai oggi se hai fastidi, dolori, tensioni nessuno ok qua centrale più questa zona qua ok buvi tanti caffè nessuno ok fastidia allo stomaco ok da quanto tempo ok il dolore è comparso da quando è fastidio allo stomaco ok allora qua ti faccio male no qui 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 vai giù a toccati la punta dei piedi torna su mettiti seduta al centro del lettino spingi verso il basso spingi verso il fuori spingi verso il dentro forza buona mani sulle spalle spingi verso l'altro la coscia anche questa verso il fuori la gamba anche questa ok destra dimmi cosa vedi di me mano gomito mano gomito spalla mano gomito spalla viso ok gira sinistra stessa domanda fino alla spalla ok se comprimo così ti faccio male sempre nella zona che mi dicevi prima ok qua no ok qui quindi qua ti fa male da 1 a 10 quanto ok alza il braccio mettilo così tienilo su questo scende uguale scende di quanti punti da quanto è adesso il dolore scende ok se ti porto un po' più in alto ritorna come primo scende ancora scende ok quanto no ho qua di 3 un po' di 1 ok allora facciamo così tienilo così inclina e ruota molto meglio molto meglio ok giù allora cominciamo a fare una manogretta qua sentire il rumore tipo quando ti scrocchi le dita ma non spaventarti che non fa male morbida morbida bravissima ok ferma così tieni il braccio su 1 2 giù brava 1 2 meglio uguale ok allora vai a pancia in su che lavoro fai? eh un lavoratore di cosiddetta ok sei sempre seduta in piedi ok fai sforzi sì magari qualche movimento sbagliato rifatto eh credi proprio un blocco meccanico fuori ancora fuori perfetto ok allora sulla testa a me inspira brava sta bella morbida fuori d'aria ok direi che qualcosina c'era cosa dici? ok gira sul fianco sinistro ok vieni vicina col sedere vieni 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 gomito gomito giù giù molle molle brava inspira fuori l'aria fianco destro vieni più vicino vieni 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 stop così l'addrizza questa inspira fuori l'aria ok ok Allora, pancia in giù. E' sceso un po'? Ok. Avrei fatto sicuramente qualche movimento, quindi domani un po' di fastidio post-manipolazione lo avrai, poi basta, in due giorni stai benissimo. Un po' di tensione qua ce l'hai comunque, muscolare, un po' tanta diciamo. Fai stretching? No. Bene. Ottimo. Fiega così, tieni così. Quanto lo dico io, spingi con la gamba verso l'alto. Ok. Vai, spingi. Stop. Spingi. Ok. Questo è fastidiosissimo. Un scendolo. Dimmi se è troppo dolore, eh? È troppo dolore. Pasciano. - Grazie. Brava. Questo mi piacevolissimo. Sì, a parte delle mie ginocchia. A parte delle mie ginocchia. Sì, eh? Sì. Male? Sì. Resisti? 5, 4, 3, 2, 1. Bravissima. Allora, pancia su. Fuori. Ancora. E fuori. Vai. Vai. Ultimo. Ok. Seduta. Ti girerai un po' la testa, non spaventarti, eh? Ok. Mano sui fianchi. Una bella gomitata all'indietro, più veloce che puoi quando te lo dico io. Ok. Vai. Bravo. Uno. Proprio un colpo, eh? Vai. Eccola. Bravo. Ora, metti le gambe di qui. Scusate di cadere indietro. Ok. Torna seduta. Gambe di là. Proprio verso la scrivania. Di qua, di qua. Ok. Mano a me. Allora, non ho trovato molte cose. Qualche blocco c'era, ma secondo me è da movimento sbagliato. Hai fatto qualcosa che non è una consola nella tua postura. Soprattutto in questa zona dove avevi dolore e il suo punto riflesso che è sopra. Tolto questo, stare bene. Sciogli i muscoli. Un bel massaggio decontratturante ti serve, eh? 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 Iscriviti al nostro canale Grazie. 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 Grazie.